Questa è l'Europa che mi piace, l'Europa delle relazioni tra gli amministratori e le comunità. Entusiasta e grato, il sindaco Massimo Seri ha ringraziato il comune di Wolfsburg che ha fatto recapitare al Codma di Rosciano 50.000 mascherine chirurgiche. Il gesto di solidarietà è scaturito dai rapporti instaurati con Fano, grazie agli scambi culturali tra gli studenti e ai progetti che legano le due realtà. La cittadina tedesca, che è gemellata dal 1975 con la provincia di Pesero e Urbino, ha così deciso di donare i dispositivi di protezione al comune di Fano. Il carico è stato accolto dal primo cittadino, dal vice sindaco con delega alla protezione civile Christian Fanesi, dai responsabili di Asur Mar che è aria Vasta 1 e dai volontari del CB Club Mattei. Io in questi anni ho investito molto sulle relazioni anche internazionali che ci hanno portato ad avere grandi risultati anche in termini economici su tanti progetti europei finanziati, ma ci hanno portato a svolgere anche determinati ruoli e presenze che Fano non aveva avuto. E queste relazioni poi ti portano anche in momenti come questi a confronti e aiuti. Nel nostro dialogo tra sindaci c'è stata questa disponibilità da parte del sindaco di Wolfsburg a sentire la Volkswagen direttamente che ha la sede là e ci hanno fatto giungere queste 50.000 mascherine gratuitamente che si uniranno ad altri 10.000 che abbiamo acquistato e quindi sono 60.000 che noi distribuiremo a tutti i cittadini della città di Fano. Nelle scorse settimane ha precisato il sindaco, ne abbiamo già distribuite 34.000, le ultime arrivate invece saranno consegnate con modalità ancora da stabilire. Tra le ipotesi c'è quella di distribuirle attraverso la protezione civile e le associazioni di quartiere, evitando che qualcuno possa prenderne di più lasciando senza altre persone. Per i bambini invece avete dei progetti? Anche per i bambini che ovviamente devono avere un'attenzione particolare, anche su questo ci sono alcune associazioni che stanno preparando delle mascherine dedicate a loro, lavabili, ma su questo non anticipo niente perché la sta seguendo anche l'assessorato e quindi si aggiungeranno anche queste per i bambini che avranno delle tonalità e delle simpatie idonee per loro. A giovani e adulti invece Massimo Seri ha voluto lanciare un ulteriore appello. Per cui saremo severi perché siamo veramente in una fase delicata, per tenere comportamenti irresponsabili rischiamo di compromettere tutto il lavoro fatto e invece di fare un passo avanti poi saremo costretti a farne i due indietro. Allora abbiamo voluto fare questo sforzo grazie anche all'aiuto di altri, quindi tutti dobbiamo portare le mascherine, sia quando andiamo nei luoghi chiusi, quando andiamo nei negozi, ma anche quando siamo all'aria aperta insieme ad altri. perché è importante, ripeto, per tutelare noi stessi e per tutelare gli altri e soprattutto per non tornare indietro.